Pronti qui a Capitaneria di Porto di Castellamare per il cambio a vertice, lascia il comandante Guglielmo Cassone, subentra il comandante Ivan Savarese, anche lui locale. Un saluto e la signora Cassone ci diceva con rammarico lasciano Castellamare, con rammarico. Perché il nostro paese di origine siamo stati veramente bene, riaccolti con tanto affetto da tutti. Grazie. Auguri per la nuova destinazione. Grazie, grazie. Buongiorno, che cosa comporta con voi il cambio del comandante? Il cambio del comandante comporta che ci sono tante variazioni in Capitaneria, avremo nuovi compiti, ci sarà un riassetto, diciamo. Deve esserci un riassetto dei ruoli e delle mansioni, quindi si spera che andrà tutto sempre meglio. Grazie. Lei è? Guardia Marina Domenico Landi. Può prendere tutto, perché è bellissimo nella sua divisa come anche loro. Complimenti. La Marina ha sempre il suo fascino. Ha lisa il suo fascino. Buongiorno. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti